Rolex GMT Master 2. Esplorare il mondo del tempo con stile e precisione. L'orologio da polso GMT Master 2 è un'autentica icona nell'affascinante mondo dell'orologeria. Celebrato per il suo design unico e le avanzate funzionalità, questo segnatempo rappresenta la scelta perfetta sia per gli appassionati di orologi che per i viaggiatori internazionali in cerca di un compagno di viaggio affidabile e dallo stile inconfondibile. La storia di questo prestigioso orologio ha inizio nel lontano 1982, quando Rolex, una delle case orologere più rinomate al mondo, introduce sul mercato il GMT Master 2. Da allora, questo orologio è diventato un punto di riferimento nel mondo degli orologi da viaggio e da aviatore. La denominazione GMT si riferisce a Greenwich Mean Time, il fuso orario di riferimento utilizzato storicamente come standard globale. Tuttavia, ciò che ha realmente distinto il GMT Master 2 dal suo predecessore, il GMT Master, è stata l'indipendenza della lancetta GMT rispetto a quella delle ore locali. Questo notevole miglioramento, reso possibile grazie al nuovo calibro 3085, ha reso la regolazione del secondo fuso orario molto più rapida e comoda per i piloti e i viaggiatori internazionali. Ma le innovazioni non si fermano qui. La seconda serie del GMT Master 2 è spesso ricordata come la serie Fat Lady, a causa della cassa, della lunetta e della corona più grandi, che conferiscono a questo orologio una presenza imponente. Una delle versioni più celebri del GMT Master 2 è la Pepsi, riconoscibile per la sua ghiera blu e rossa, che richiama i colori dell'omonima bevanda. Questa versione ha conquistato il cuore dei collezionisti di orologi in tutto il mondo. Successivamente, Rolex ha introdotto altre varianti cromatiche, tra cui la Coke con ghiera rossa e nera, la Batman con ghiera nera e blu, lo Sprite con ghiera nera e verde e la Root Beer con ghiera marrone e nera. La versione Sprite merita una menzione speciale in quanto è uno dei rari orologi da polso per mancini prodotti da Rolex. Questo dettaglio insolito ha conferito un tocco di esclusività a questa variante del GMT Master 2. Possedere un GMT Master 2 è un modo per esprimere la passione per l'orologeria, abbracciare uno stile di vita avventuroso e portare con sé un pezzo di storia, innovazione e successo orologero. Grazie alla sua versatilità e alle numerose varianti disponibili, il GMT Master 2 si rivela un compagno ideale in qualsiasi situazione, dall'ambiente aziendale alle avventure in giro per il mondo. Grazie a tutti.